Ci possiamo innamorare, per favore? Mi hai appena chiesto se ci possiamo innamorare? Sì, credo di avertelo appena chiesto. Non credo funzioni così. Cosa intendi dire? Penso dovrebbe venire naturale. Tipo? Tipo la fame, la sete, la nascita, la morte. Le lacrime? Sì, anche le lacrime. La pipì? Certo! La pioggia? Il terremoto? Le onde? Le nuvole? La luce del sole? Sì, proprio come la pioggia, il terremoto, le onde, le nuvole, la luce del sole. Come le fosa dei gatti, dunque? Sì, mi sembra tu abbia capito il concetto. Allora aspettiamo. Magari succede. Magari succede, sì. Speriamo.